Ciao a tutte e bentornate nel mio canale. Scusate per la voce ma sono un po' raffreddata. Si avvicina la primavera e quindi ho pensato di realizzare una nail art con dei fiori. A dire la verità farò tre video con i fiori. Questo è quello diciamo più semplice in cui servono solo degli smalti ed è molto veloce da ricreare. Se può interessarvi seguite il resto del video. Per la base ho utilizzato questa di Trebosi con le vitamine. Sull'anulare e sul pollice ho steso questo nude di Pupa che è il numero 11 mentre su tutte le altre unghie ho steso questo lilla di Kiko che è il numero 330. Per entrambi gli smalti ho steso due passate per avere più coprenza. Iniziamo quindi a creare la nail art. Per i petali del fiore utilizzerò questo viola di Pupa che è un lasting color gel che è il numero 74. Verso qualche goccia nel contenitore. Prelevo un po' di colore con il dotter dalla punta quella grande. Lo rilascio poi sull'unghia e faccio i miei quattro petali. Prendo poi uno stuzzicadenti oppure se volete potete prendere un ago e tiro lo smalto dal centro verso l'esterno. In questo modo abbiamo reso un po' più realistici i petali del fiore. Con la punta piccola del dotter prelevo sempre un po' di colore e vado a creare dei puntini sulle altre unghie. Prendo un brillantino che andrò a posizionare al centro del fiore in questo caso io l'ho preso rosa sporco la punta del dotter con un po' di top coat e lo rilascio dove andrò a posizionare il brillantino e poi lo sistemo. Riprendo il lilla di Kiko verso una goccia con la punta piccola del dotter prelevo un po' di colore e andrò a fare dei puntini. in questo modo ho creato un po' di movimento adesso faccio la stessa cosa sul pollice termino la nail art stendendo il top coat su tutte le unghie ed io utilizzo questo di Deborah questa è la nail art terminata come avete potuto vedere è molto semplice da realizzare e soprattutto basta semplicemente avere degli smalti io spero che quest'idea vi sia piaciuta e ci vediamo al prossimo video ciao